allora buonasera ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e vogliamo ripetere questa sera le interviste che abbiamo fatto dei gentleman l'altra volta per chi ci segue ovviamente questa sera abbiamo selezionato e chiamato i protagonisti della classe pro che anche loro insomma ci stanno facendo vivere una storia veramente bellissima per questo campionato formula 1 1991 vi ricordo organizzato da simdrivers.eu in collaborazione stretta collaborazione con la sr formula di alessandro michali insieme a src che vedete qui sopra il banner 3d rap il gruppo renegade gs racing di davide di lodovico e la ncs italia e onestamente io sono particolarmente affezionato a queste due classi e non poteva mancare l'appuntamento al praticamente alla vigilia dell'ultima gara che sarà sicuramente molto intensa in termini di emozioni tante aspettative di questi piloti e come non presentarli allora alla mia personale sinistra abbiamo marco siddi della bravam team ciao marco grande grazie per aver accettato l'invito alla mia destra il grande andrea zampini zampo ciao zampo ciao a tutti ciao a tutti molto pacato mi piace sotto abbiamo il grande maglio liguori ciao maglio buonasera a tutti e poi il nostro paolo lucci che purtroppo per problemi tecnici non riesce a farsi vedere nella webcam ciao paolo allora ragazzi io sono veramente felice di avervi con me questa sera come dicevo nella mia piccola intro un campionato proprio ricco di emozioni dall'inizio al fino adesso ci sono stati soprattutto per quanto riguarda il campionato piloti dei sali escenti tra andrea e paolo paolo rivelazione del campionato che è andato crescendo andrea sei una conferma anche se lo so che me l'hai detto prima di iniziare ti eri posizionato tra i primi tre quindi così te l'ho tagliata questa scusa tua molto sei uno dei più attesi di questo campionato e la situazione attuale della classifica ti dà secondo a quattro punti da paolo d'accordo quindi rispieghiamo un attimino ai ai nostri ai nostri ragazzi che ci seguono utilizziamo la la classifica strongman quindi dall'inizio del campionato in base agli iscritti sono 28 punti totali assegnati per il primo il secondo 27 26 25 eccetera eccetera quindi anche pochi scarti di punti per essere recuperati possono essere veramente difficili da diciamo chiudere il gap e andrea si trova con quattro punti da recuperare su un certo paolo nucci e comunque ha una certa continuità poi ho fatto una specie di cosa statistica per capire insieme studiare insieme però gli accaldo subito così vorrei sapere da te andrea a questo punto del campionato con i risultati che hai avuto qual è il il rimpianto vista la classifica attuale che hai di questo campionato se c'è se c'è se c'è nel post spa ovviamente la gara di spa la gara di spa quindi l'ultima l'ultima vabbè le altre brutte gare che ho fatto istambule barcellona lì stavo ancora cercando di capire la macchina da da istambul avevo deciso che ora devo essere più concreto un pochino più concentrato infatti ci stavo riuscendo fino agli eventi di spa allora lo lo attribuisci a un alessandro alessandro forte euforico o è un caso fortuito vai puoi dire tanto non non diciamo che che alessandro è stato il mio mark marquez di qualche anno fa ok no vabbè quello quello è stato un incidente può capitare purtroppo le modalità con cui è avvenuto quindi sai incidente primi giri proprio una di quelle cose che mi fa nervosire poi alessandro lo sa che io i primi giri sono abbastanza cauto quindi poteva superarmi tranquillamente mi ha centrato non l'ha fatto apposta purtroppo con queste macchine se perdi la concentrazione poi tutto in discesa quindi lì mi sono nervosito la macchina era danneggiata quelli dietro stavano rimontando è stato tutto un escalation e poi vabbè lì il resto è stata a causa mia gli errori che sono susseguiti però ecco diciamo che ero in controllo fino a quel momento ho fatto la pole position quindi sapevo di poter fare un'ottima gara cioè eri cosciente delle tue capacità della tua velocità su su spa però però allora tu hai attribuito la colpa a barcellona e instabul stavo cercando di capire la la macchina però chiediamo io hai fatto secondo sì è vero è vero hai fatto un gran risultato eh sapendo che forte si era girato al primo giro eccetera eccetera c'è stato un po di casino anzi tanto casino nelle prime curve sei riuscito a districarti hai fatto un garone spettacolare permetti io ti ho seguito un gran secondo posto poi sei andato in difficoltà barcellona e in instabul come dicevi però la domanda è sei stato impegnato anche in un secondo campionato che ti vedeva protagonista come con le f pro se non sbaglio non non ha inciso anche quello il fatto di dover scendere una macchina completamente diversa dall'altra probabilmente e ha influito negativamente diciamo sulle tue performance sulle tue capacità forse anche la stanchezza perché so che comunque quello era un campionato abbastanza difficile se non sbaglio e se ho capito bene quel campionato comunque era impegnativo pensi che abbia sicuramente diciamo che ha infiacciato pre gara comunque questa macchina per raggiungere il limite devi avere comunque un con venti minuti per per cercare il limite ovviamente saltando giù da una macchina saltando sull'altra ma guarda però non non ha influito particolarmente questa motivazione qua dagli stamboli barcellona ricordati che sono subentrati i vari mastrangelo battaglia certo chiesa ha iniziato a girare bene però tu hai girato bene pure al bugello a bugello hai ottenuto un primo posto e poi ne discuteremo con maglio poi a monaco comunque un ottimo quarto posto anche se mastrangelo lì è stato stratosferico però comunque contenuto bene l'ungaro un gara ring fai una seconda posizione poi spa purtroppo direva sto non opposto che comunque riesce a compensare diciamo quello che è successo sono solo quattro punti non è impossibile devi praticamente vincere con dando quattro posizioni proprio numeriche a paolo la tua strategia a monza allora so che tecnicamente mi dirai fabbri vado primo e cerco di ti lo so ma c'è qualcosa che a livello di team e qui interpello anche maglio pensi non dovete scoprire le carte però penso c'è un c'è l'esistenza di una strategia pensata tra di voi avete cercato di cosa cosa andrete a dare come priorità il team perché vi ricordo che comunque avete ampio margine stiamo parlando di 27 punti sul team brabham che si è comportato bene perché vi ricordo che siete i due team primo il team tyrell dall'inizio del campionato fino alla fine fino a questo momento e brabham che segue oppure vi concentrerete sul tuo risultato con il tuo massino napoletano maglio dietro che cercherà di compensare su paolo ad esempio io faccio il giornalista ragazzi stasera faccio quello che vi romperà la scatola che cerca di tirarvi i verbi dal naso per avere più informazioni o semplicemente no facciamo la gara vediamo come va perché maglio ricordiamo che matematicamente è ancora in lizza per poter vincere il campionato anche se i risultati che dovrebbero che ho fatto i conti e che andrea dovresti arrivare quattordicesimo e paolo dovrebbe arrivare diciottesimo e lui primo però matematicamente la vita non si sa mai quindi avete già studiato qualcosa non entrate nei dettagli però magari noi vogliamo sapere guarda poi lascio la cuola a maglio e poi ti dico tutto questo campionato io non ho mai chiesto l'opposizione a maglio maglio non l'ha mai chiesto a me quindi quando ci siamo fatti passare era perché chi era davanti ha fatto passare quello dietro perché lo vedeva più veloce quindi anche per monza assolutamente quindi nessuna quindi nessuna strategia neanche per agevolare comunque tu sei lì davanti per quattro punti no neanche ma no dai alla fine sono qua per divertirci quindi non voglio sacrificare purtroppo con maglio è stato a una vittoria che avrebbe dovuto avere che non ha quindi non è neanche giusto che chiedere posizioni privare del podio di chissà cosa perché siamo qua per divertirci no ma questo questo ci mancherebbe al di là del divertimento è andrea ragazzi io faccio una domanda perché è molto interessante anche livello strategico dire vabbè dai maglio sono secondo mi quattro punti che fai mi stai dietro me lo rallenti fai data no dico succede succede nella realtà tra amici anche a livello di strategia e penso che sia una domanda lecita non è nulla di va bene ok quindi per zampini no facciamo una gara con alessandro lo farei ma con no però non dico c'entra impieno però sai mi mettono lo di lo disturbo così maglio dai andrea ha parlato ma maglio cosa ne pensa lui maglio io correrò per fare una bella gara e poi solo la situazione in quel momento mi farà capire cosa fare però bisogna fare attenzione chiaramente che può essere molto rischioso io citerei sinceramente arrivare terzi che sarebbe un buon risultato visto come erano fatte le cose quindi andare a rischiare così senza senza pensarci mi sembra un po' alberdato se ci sono gli spazi più che altro per te siamo in tanti la vostra pista ha le sue difficoltà se le cose si mettono secondo quello che spero e ci può anche cercare di tenere la terza di provare a tenere la terza posizione sicuramente poi se ci sono le possibilità darmi una mano ma questo non vuol dire fare il Verstappen nella situazione no ma non è che parlavo ragazzi no io parlavo parlavo di una strategia eventualmente guarda mi metto dietro vai avanti tira cerco di non è che dicevo bisogna sfondarlo no assolutamente come dice Andrea giustamente siamo qua per divertirci ma un po' di strategia come hanno fatto di Stasi e Todisco nei cambi anticipati di strategie eccetera che ha pagato bene in questo senso qua cioè con il buonsenso parlavo io non allora abbiamo fatto Borsellone e Istanbul ci siamo girati tutti e due va bene sì è meglio non lasciar passare sì 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 no vabbè comunque d'accordo quindi la gara la gara come viene viene alla fine quindi senza strategia pianificata viene viene va bene allora va bene ho sempre una domanda per Maglio allora noi sappiamo che la direzione di gara io ti abbiamo scippato una prima posizione al Mugello se non sbaglio no che si è tradotta in una quinta posizione però se io analizzo un attimino quello che è il tuo risultato non è proprio quello che diciamo condiziona quello che è il risultato finale tu attuale dei tuoi 159 punti perché se io vado a guardare la media di posizione che hai è di 6,3 di posizione in realtà il tuo peggior piazzamento è l'undicesimo a Monaco dove il grande Marco Podda ti ha tenuto dietro è stata una lotta bellissima anche perché il circuito ovviamente offre la possibilità di poter chiudere bene e fai un ottimo piazzamento terza posizione a Spa d'accordo quindi in tutta questa storia che hai tipo quinta posizione a Chiariami ottavo a Barcellona ottavo a Istanbul quinto al Mugello per penalità undicesimo a Monaco quarta a Lungaro in terzo a Spa stessa domanda di Andrea qual è il tuo rimpianto qual è il GP che rimpiangi di più perché in realtà al Mugello hai fatto tutto bene stiamo parlando di tre tagli di fila insomma un cavillo di regolamento giusto ma qual è quindi la gara che rimpiangi di più forse proprio Monaco perché sinceramente non avevo idea di dove poter arrivare però chiaramente stando un po' il tappo davanti insomma Cindy comunque si è difeso bene aveva la sua velocità però probabilmente sono stati parecchi giri quindi magari 4-5 punti in più non credo di sarei riuscito a fare molto di più però per me 4-5 punti in più perché si trattavano si trattavano di parecchi giri sì è stata una gara molto impegnativa per tutti comunque Monaco quindi già il fatto di portarla a casa effettivamente quindi quell'undicesimo posto e su una gara tipica così comunque traduce quello che si è visto per praticamente per tutti sono pochi casi eccezionali che hanno confermato tipo Cosimo Mastrangelo che ha fatto proprio una gara a parte insieme ad Alessandro Forno guardate che per un anno io partiva ultimo a Monte Carlo ah ecco è vero è vero è vero questo è anche vero che partiva ultimo però per lui io la domanda è quale quale il rimpianto se tu parti ultimo dico sono arrivato ad undicesimo e ho fatto un gran garone quindi probabilmente io avrei scelto un'altra cosa però effettivamente il rimpianto perché avrebbe potuto guadagnare un po' più di punti e posizionarsi un po' lì davanti comunque va bene Monte Carlo per lui dove comunque c'è stata una gran lotta con Marco ed è questa anche la storia che state raccontando voi quattro cioè la lotta tra Paolo e Andrea la lotta per la prima posizione finale e voi quattro proprio come squadra e questo è molto molto interessante Paolo vengo a te subito allora il tuo rimpianto in questo campionato l'ha avuto mai con Marco e non fare le squadre no è andato bene con Marco in tutte le gare la fine perché a parte non mi aspettavo le stacose avanti beh oddio sei stato molto molto hai avuto una buona continuità nel senso che il tuo per giorno risultato è il lungaro ring con una sesta posizione il resto fai quarto al Chiariami quinto a Barcellona, secondo a Istanbul, quarto al Mugello, quinto a Monaco un gare in sesto quindi peggior risultato e poi fai primo a Spa gran risultato la tua media è 3,9 in termini di posizioni fai meglio di mezzo punto rispetto ad Andrea che comunque chi li rovina la statistica è proprio Spa e sono quei quattro punti che fanno le differenze quindi cosa cambieresti in realtà? Nulla perché sei primo quattro punti quattro punti sono se non sbaglio è vero ragazzi? sono quattro punti come come i piloti pro eh gentlemen ragazzi quattro punti tra il primo e il secondo quindi bellissima questa cosa quindi molto bene Paolo strategia di difesa a Monza nei confronti di Andrea che si fa vedere pagato così ragazzi però secondo me starà bollendo perché deve andare a Monza a dare tutto ma Paolo come contenere un Andrea Zampini che sai benissimo che ha le capacità è uno che attendiamo sempre attendiamo i risultati da Andrea da quando lo conosciamo dall'Aston che ha dimostrato tantissimo le lotte con Mattia Krupi Fabio Napolitano eccetera come lo contieni uno come Andrea? eh contieni mi devo qualificare il più vicino possibile e poi ci sono almeno cinque piloti più veloci di me quindi devo approfittare di tutti gli errori e stare più vicino come ho fatto fino adesso sì ma tu devi ma tu devi marcare stretto solo Andrea in realtà qualsiasi sia la posizione devi stare dietro di lui o non più lontano di quattro posizioni in realtà ma Monza è particolare ad esempio io questo lo chiedo a tutti veramente a tutti la prima curva a Monza perché abbiamo fatto gli Eliami prima curva abbastanza morbida Barcellona abbastanza veloce fa in seconda terza giusto in Istanbul la stessa cosa Mugello c'è la San Donato insomma c'è Spazio eccetera Monaco è un po' diverso però tutti si sono comportati bene perché eravamo tutti lì ragazzi attenzione Monaco è un Garonning uguale un gran curvone Spa anche se è stretta c'è molto spazio ma Monza è particolare come l'affrontate? cioè nella vostra terra cioè cos'è che fate? non si vince la prima curva Marco non si vince la prima curva Maglio tu? qual è la di non forzare la staccata di stare più tenti possibili sperando che anche gli altri la pensino uguale e quindi questo è Marco e Maglio perché comunque hanno meno pressione in termini di campionato cioè loro devono fare la loro parte a livello di team ma Andrea ad esempio Andrea qual è cioè quali sono le tue sensazioni rispetto a una prima curva? se parti in pole non rifetti cerchi di fare la miglior partenza del mondo ma se sei secondo o terzo che fai? prendi il rischio subito? cosa fai? io non ho mai visto una gara a Monza senza incidenti so già che tutte le raccomandazioni mi raccomando ragazzi la prima curva poi ci sono i doni del primo giro che alla fine faranno casino quindi allora bisogna essere fortunati quindi la fortuna per 80% fortuna ok d'accordo e preferire se ho sbagliato al momento sbagliato li prendi allora a questo punto la domanda è preferisci partire interno cioè si interno o esterno cioè rispetto alla curva ti preferisci ritrovarti la prima curva all'esterno o all'interno? guarda io Monza non è uno dei circuiti che amo quindi so già che partirò lì in mezzo al gruppo e vediamo quello che succede poi forse all'esterno no? perché entrano sempre a ributtarsi sulla destra tutti quindi ok d'accordo un po' lontano dei guai forse meglio all'esterno e poi costruire la gara piano piano e cercare di recuperare posizione ok quindi Andrea punta sulla anzi tutti puntate Paolo tu invece? tutto sta sulla parte infatti se baliscia quella perché dipende da me parte se sta nel mezzo devi guardare avanti e dietro è un casino lì è complicata la storia io ho sempre perso due o tre posizioni in partenza quindi non lo so sì però se poi le riguadagni con la costanza è quello che è importante in realtà la consistenza della gara abbiamo visto dei sorpassi bellissimi abbiamo cioè e anche oltre alla performance pura voglio dire la costanza con queste macchine qua paga tanto anche la gestione della gomma se non sbaglio voi piloti siete quelli che potete dirlo ancora meglio di me in realtà questa domanda l'abbiamo l'abbiamo già risposto Andrea che non c'è mai stata penso strategia per quanto riguarda la priorità del pilota eccetera chi è più veloce va avanti però rigiro la stessa domanda a Marco e a Paolo per il team Brabham avete avuto da subito mai come avete gestito la gestione dei piloti la priorità se c'è mai stata avete discusso di queste cose tra di voi o no mai no no assolutamente mai perché io sto zitto quando corro in mutuo allora cambio un attimino qui dice prima cambio cambio un attimino la domanda come preparate le gare ragazzi d'accordo cioè come team come la preparate intanto vi preparate insieme fate una strategia di gara insieme ad esempio quando avete dei dubbi ascolta io provo questo e tu fai questo fate una preparazione di gara oppure ognuno per cavoli suoi tipo il team Brabham come fate a Spam abbiamo fatto un giorno insieme però è stato il primo mi sembra sì il primo sì poi a volte ci diamo qualche consiglio sul setup su delle impostazioni della macchina così però non c'è una vera reale strategia studiata arrivare il più avanti possibile alla fine possibilmente senza girarsi ok ok quindi in realtà non c'è nulla di preparato cioè quello che vediamo in termini di risultati di quello che vediamo in pista non c'è nulla di preparato esce così d'accordo e il team Tirel stessa cosa stessa cosa anche perché Maglio è uno metodico che inizia a lavorare sul setup a provare fin da subito io faccio la secchiata della sera prima quindi no vabbè comunque condividiamo le nostre opinioni però fondamentalmente abbiamo anche due stili di guida molto diversi quindi ci siamo trovati bene al Mugello con lo stesso setup fondamentalmente un po' anche a Lungaro Ring ma per esempio a Spave due setup completamente diversi lo stile di guida anche fatemi capire ragazzi non vi mettete d'accordo su nulla fate qualche setup condividete eccetera eccetera e abbiamo questa continuità di posizionamento dei team Tirel Brabham primo e secondo con una cura millimetrica in termini di risultati perché se prendo la media ponderata Tirel fa 47,3 e Brabham fa 43,4 stiamo parlando di un margine di 4 punti su 4 persone su una lista di 28 punti assegnati 28,27,26 ragazzi cioè mi stai dicendo Fabri è una casualità è realmente così cioè è bellissima sta cosa anche in termini matematici dire siamo talmente costanti funzioniamo così e quindi è per costantissimo mi gira almeno due volte a gara sì vabbè quello sì ragazzi io vi faccio i complimenti perché comunque è importante farlo due volte meno degli altri è vero però onestamente a vedervi cioè sembra che ci sia comunicazione nei box o guarda che siamo ma anche prima una preparazione allora guarda potremmo siamo un po' in difficoltà qui accontentiamoci di qua di là passa tu in realtà no quello nel pre-gara sì certo in realtà non vi volete sbottonare ho capito però va bene ma se cominciano a parlare a dire qualsiasi cosa non c'è molta strategia da fare come Andrea scusami non c'è molta strategia da fare devi vedere la gara come inizia e in base a quello non abbiamo proprio avuto modo di interfacciarci perché in entrambi i momenti della gara quindi quando ero avanti Maglio eravamo proprio in posizioni totalmente diverse quindi aveva anche poco senso dirci le cose ma io ero concentrato io ero incazzato sono avanti altri ok d'accordo va bene allora io vorrei cambiare un attimino abbiamo parlato un po' di strategia abbiamo parlato di numeri abbiamo cose che interessano proprio per una questione di posizionarci sul campionato anche se manca una classifica ricordiamo quella degli awards dove è in testa questa volta per 0,1 Andrea su Paolo gli awards funzionano che in base alle posizioni guadagnate o perse si guadagna 0,15 per quando si guadagna e si perdono 0,15 quando si perdono e in base al posizionamento c'è un punto mezzo punto eccetera eccetera ne discutevamo prima di iniziare strategicamente cioè matematicamente ancora non è nulla di chiuso ovviamente e ci sono due ragazzi dei gentleman che potrebbero andare a dar fastidio ad Andrea a Paolo in particolare Marco Podda che ormai lui ha vinto come dicevo il premio Polman al quale rifacciamo i complimenti potrebbe visto che non ha più niente da perdere decidere di partire ultimo per cercare di fare una scalata degli awards se riesce ad arrivare nelle prime posizioni quindi anche questa classifica a distanza è ancora aperta e c'è anche Massimo Cirelli che è subito dietro con 8,25 punti circa un punto e 20 dietro di voi quindi molto interessante non andiamo a discutere di quello perché quello dipenderà unicamente da quello che sono i risultati quindi a livello di strategia c'è poco da fare e cercare di fare il meglio possibile e perdere meno posizioni quindi vorrei andare più sul piano emozionale ragazzi e questo è più che altro la comunità di SimDrivers che ve lo chiede ma di questo campionato che cosa vi emoziona di più Marco che cosa mi emoziona di più sì c'è cos'è che ti fa c'è cos'è che ti fa posare il culo sulla postazione per venire a correre a questo campionato Formula 1 in 1991 intanto i compagni di campionato che sono tutte persone che conosco con le quali mi sono sempre trovato bene e con cui è un piacere guidare quando non ti tamponano vabbè quello è il pezzo a tutti non ce l'ho fatto che voglio Zampini citazione citazione Zampini non ci siamo messi d'accordo vabbè quindi il piacere di correre con i compagni con gente conosciuta sì perfetto Andrea guarda proprio questo lo sai Fabri partecipo a tanti campionati però fondamentalmente sono tutti i nomi che leggi scritti non hanno non riesci neanche a dare un volo qua invece sapendo con chi comunque conoscendo tutti gli altri partecipanti sai poi partono gli sfottò e ti sono arrivato davanti quindi contribuisce a rendere tutto più ad aumentare la tensione poi vabbè queste macchine che sono straveloci comunque contribuiscono a rendere tutto più piccante ecco rispetto ad altri campionati quindi sì fondamentalmente la community e poi la tipologia di mod diciamo non ti fa dormire tranquillo sì è vero è vero è vero quindi pensiero condiviso di Andrea è più la mod per quanto riguarda quindi di Marco condiviso da Andrea Maglio tu cos'è che ti fa emozionare di questo campionato perché tu sei uno un gran ritorno comunque giusto se non sbaglio era da un po' che non correvi o sbaglio è il tempo della prestigio dobbiamo andare indietro parecchio no effettivamente non Andrea dice che fa un sacco di gare abituato io posso fare due o tre gare all'anno quindi sono stato quando ho visto la pubblicità diciamo del campionato che sono subito lanciato perché praticamente predivido le macchine o magari con il cambio manuale pressione adesso qua non è proprio così però come tipo di giro di auto formule 1 storiche mi fanno volere cioè c'è più c'è più goduria queste non avranno il cambio ad acca però sono davvero difficili da usare imprevedibili comunque le difficoltà ci sono rispetto a una macchina moderna ci sono altre difficoltà però sicuramente sì è stata la mod mi ha fatto subito precipitare per iscriverti va bene amo in particolar modo questa mod d'accordo ok grazie per le difficoltà della mod c'è anche il fatto che gli altri sono bravi e navigati il simulatore per me è comunque stata praticamente una novità quindi ci mettiamo insieme a tutte queste difficoltà per me insomma sono ben contento di come sta andando bene ottimo vabbè sei terzo in classifica in questo momento stai lottando per la prima posizione per quanto riguarda il 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 campionato pilota team voglio dire insomma un ottimo risultato venendo da console da tanto tempo che non correvi voglio dire più di così caro Maglio esatto c'è ti manca ti manca il campionato piloti voglio dire non sicuramente anche il Porto Mola qualche piccola abbiamo avuta poi come l'ho sentito anche da altri gara dopo gara c'è stato un miglioramento generale sono migliorato io ma sono migliorati anche gli altri sì ma tutti tutti effettivamente forse sì quello che può fare la differenza a questo punto è un po' la fortuna è un livello abbastanza bilanciato vedremo a Monza l'ultimo quello che succederà vedremo comunque per coronare il vincitore Paolo tu che cosa è che ti emoziona quindi perché Paolo ci segue da un bel po' adesso giusto Paolo? sì comunque tutte le cose che hanno detto loro e poi io non ho mai vinto la gara è stata la prima volta la prima volta non lo so poi la mod l'aspettavamo da tempo questo campionato è vero è vero è vero questo che lo aspettavamo da tanto poi c'è l'esclusiva delle macchine che non c'erano che adesso li ha rilasciate Alessandro ormai quindi la cosa che tutti hanno in comune mi parte di capire che insomma la comunità la compagnia oltre alla mod eccetera questo contribuiscono per voi a darvi quelle emozioni tali che vi fanno stare seduti davanti al vostro simulatore abbiamo fatto un bel giro abbiamo parlato di tante cose in realtà c'è una domanda comunque che mi piacerebbe fare anche se più o meno avete detto tutti quello che pensate però la vostra posizione oggi in classifica o al di là insomma della classifica è quella che era nelle vostre aspettative dei risultati all'inizio lo so Andrea che hai detto che è previsto una terza posizione però realmente quelle che sono le vostre potenzialità che le conoscete soprattutto in base anche ai ai vostri avversari con i quali vi siete misurati fino adesso rispecchia la vostra posizione le vostre aspettative Marco ma io come obiettivo quando faccio i campionati spero sempre di arrivare in top 5 quindi attualmente ancora non ci siamo lo ero invece a Spa è successo un disastro e quindi sono un retrocesso di brutto mi sa eh sì quindi non la tua posizione non rispecchia le tue aspettative Andrea ma allora no intanto quella finiscono la top 3 era una sparata per andare a qualcosa su cui scrivere no che ho le macchine a migliorazione sensazionale ad inizio campionato e allora io queste macchine qua le conoscevo già da tempo quindi prima all'inizio del campionato ero abbastanza tranquillo no insomma di poter far bene poi la nuova versione della mod mi ha lasciato molto spiattato quindi facendo le prove della prima gara a Chialami ho iniziato a dire forse l'ho sparato un po' troppo grosso quindi inizio campionato non avrei mai pensato di essere in lotta per il titolo e poi vabbè è stato una roller coaster questo campionato insomma un sacco di vicissitudini gente che è entrata gente che è uscita quindi tanti piloti forti e quindi secondo me io sono nella posizione migliore potevo ambire perché Paolo fra adesso non ha fatto praticamente un errore io ne ho fatti tanti quindi è giusto che non si apriamo ma potevo essere terzo non ce l'ho a guffare no 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 tutto può succedere fino ad adesso fino ad adesso l'ultima gara tutto può succedere lo so bene che con queste macchine una roulette russa quindi puoi andare dritti alla prima curva a fare la cicada esatto quindi vabbè ci sta quindi per te è giusto però io ho parlato delle proprie aspettative tu stai giustamente dici e sta rispecchiando quelle che sono tutti i miei errori eccetera ma le tue aspettative personali cioè non pensi oggi malgrado siano solo quattro punti che meriteresti rispetto a quelle che sono le tue capacità cioè le tue aspettative non sarebbero il top veramente il primo cioè che sei tu che ti devi fare inseguire se guardi la prestazione pura ci sono tanti piloti velocissimi Mastrangio Forte Chiesa e tutti in un modo o in un altro hanno avuto qualche sfiga durante il corso del campionato e quindi l'aspettativa sai potevo essere primo ma potevo essere anche quinto per questo ti dico ci sta la top 3 era nelle aspettative all'inizio campionato quindi ok va bene quindi rispecchia in realtà quelle che sono le tue sensazioni sono d'accordo effettivamente su vedi un parametro che non avevo tenuto in conto il fatto che Mastrangelo che subentra dopo Forte effettivamente che ha avuto parecchi problemi e comunque sappiamo che soprattutto sul giro veloce sai il fatto suo fa sì effettivamente avrebbe anche lui sarebbe dovuto stare più in là effettivamente sono d'accordo con te con quanto dici effettivamente Andrea Maglio tu? ma io io sono contento alla fine cioè dalla classifica precampionato non avrei mai detto di poter essere in questa posizione quindi quindi è oltre quelle che sono le tue aspettative sì sicuramente d'accordo ok però guarda io ti faccio i complimenti perché ti ripeto cioè dopo tanti anni e poi da console a PC arrivare terza in classifica alla penultima di campionato voglio dire bravo Paolo scusa vai Maglio sicuramente perché è una tipologia di mod che mi piace di più per test ma avrei fatto molta pratica quello di l'incontro diciamo vabbè dai ci saranno altri campionati così vedremo con altre mod e altre macchine come ti comporti voglio dire perché ormai ti abbiamo adottato nella comunità quindi ci aspettiamo di vederti in altre competizioni vedremo fuori da una Formula 1 del 91 come ti comporti caro Maglio giusto? vediamo vediamo il dindole dove arriva se siamo capaci lo scopriremo ma sì sì Maglio dai Paolo tu? non così avanti sicuramente non così avanti calcolando quando si erano iscritti tutti c'erano Daniele Andrea Tommaso Fabio non mi ricordo tutti però tutti più veloci di me e tu dove ti eri posizionato in realtà all'inizio pensavo di provare ad entrare tipo in top 10 terzo settimo ottavo piano piano ti fai più aspettativo insomma dipende come vanno le prime gare comunque va bene così comunque la tua costanza ha pagato tantissimo Andrea il tipo di punteggio che premia la costanza ma comunque lo cambieremo abbiamo delle idee per togliere ad esempio il peggior risultato doppio punteggio all'ultima gara ad esempio una cosa del genere gare bonus vediamo abbiamo in mente un sacco di idee per cercare di migliorare questo e ci sono anche i suggerimenti di voi piloti che stiamo tenendo in conto e ci stiamo annotando io penso che potremmo chiuderla qua ragazzi perché veramente abbiamo fatto abbiamo fatto il giro in modo molto sintetico da parte di tutti abbiamo parlato di tutto di quelle che sono le vostre sensazioni dell'emozione che procura ognuno di voi questo campionato si sente comunque un pochettino la tensione di quella che sarà l'ultima gara ma anche questa certa tranquillità di affrontare una gara come viene e cercare di adattarsi a quella che sarà la gara spero di interpretare bene il pensiero di tutti quanti in ogni caso mi sta a cuore ringraziarvi di nuovo per aver accettato questo invito un po' atipico perché normalmente le interviste si fanno dopo prima si evita per una questione di scongiuri perché non voglio dire non voglio scoprirmi voglio utilizzare il buon ton soprattutto il nostro Andrea Zantini che secondo me c'è i canini fuori perché vuole recuperare quei quattro quattro punti ed è l'ultima domanda che faccio Andrea pensi di poterli recuperare questi quattro punti? non insomma lo strongman non dipende da te quindi io so già che Monza non è una delle mie piste favorite poi vediamo cosa succede succede insomma però però lo sai se arrivi a pari merito se arrivate a pari merito per caso si premiano i primi posti e poi i migliori posizionamenti sarà dura sarà veramente dura ragazzi perché non la sento così tesa perché insomma per il titolo si è rimasti io Paolo e Maglio quindi lo so che è una frase fatta però se la dovesse vincere Paolo Maglio sarei comunque contento per loro non è che c'è un avversario che detesti che dici questo qua non lo devo far vincere a tutti i posti però Andrea io ve lo chiedo cioè fatemi depositare comunque le corde vocali sul tavolo come al solito perché noi qua voi non avete capito l'hype è pazzesco noi ci aspettiamo un garone come al solito io mi aspetto la gara mostruosa di Marco che cercherà di andare a rompere le scatole a Maglio per cercare di prendere più punti per il Bram anche se sono 27 punti che sono tanti però suddivisi in 4 è fattibile la cosa io mi aspetto un Andrea Zampini che scappa via con Alessandro Forte in mezzo magari che ne so ci sarà Mastrangelo che verrà a rompere le scatole e c'è uno che potrebbe potrebbe essere il Maglio della situazione dove dovrà lottare sia con Marco e con Paolo Nucci mi sto facendo dei film ma sono cose che possono succedere e che all'ultimo giro si gioca il campionato per uno e per un altro otto gare pazzesche giocate all'ultimo giro cioè questo sarebbe veramente la storia infinita di questo campionato bellissima che insomma è stato già coronato da tante emozioni positive e negative come giustamente diceva Andrea è stato veramente uno roll coaster e perché non sigillare il tutto con una una gara di questo tipo qua e io avrei l'onore e il privilegio di poterla raccontare ragazzi sarebbe veramente al bacio con questo ragazzi rinnovo i miei ringraziamenti ai piloti questa sera presenti vi ricordo ragazzi ho quattro punti da recuperare per Andrea Zampini per andarsi a prendere il campionato piloti di un Paolo Nucci che è stato veramente spettacolare per quanto riguarda una consistenza su un campionato pazzesco realizzato con la sua prima vittoria coronato a Spa un certo Marco Sidi in lotta con un certo Maglio Liguori che lotteranno per il team ricordiamo 27 punti da recuperare per la Brabham sempre seconda in tutto il campionato tira il primo in tutto il campionato e vi ricordiamo gli awards 0,1 punto di differenza tra un certo Andrea Zampini e Paolo Nucci con Marco Podda e Massimo Girelli della categoria Gentleman che cercheranno di andare con delle strategie a recuperare il massimo di punti quindi signori se non avete impegni giorno 16 dicembre e 17 dicembre categoria Gentleman e Pro la storia si racconta in questi giorni qua i protagonisti ve li abbiamo presentati nello scorso video per i Gentleman e questa sera Marco Podda Andrea Zampini Maglio Liguori e Paolo Nucci i protagonisti che ci racconteranno una storia fantastica a Monza per suggellare finire il campionato Formula 1 1991 by simdrivers.eu un'emozione che non termina questa sera ma bensì il 17 verso le 23.30 vedremo che cosa succederà grazie ragazzi veramente a tutti per aver partecipato ricordatevi di lasciare un like un pollice in su per il canale che fa bene iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto attivate la campanellina come al solito da Fabrice e i suoi amici una buona serata ciao